Salve, sono Alessandro Salvadori, titolare dell'agenzia immobiliare Salvadori ed esercito la professione di agente immobiliare da oltre vent'anni. Qualche tempo fa ho aderito al progetto Casa in 24 ore e posso dire di essere pienamente soddisfatto. I punti a favore di questo progetto sono molteplici, tanto per citarne alcuni mi piace l'idea di poter condividere con le altre agenzie gli immobili che io scelgo di condividere e di avere delle linee in guida sulla condivisione che sono fornite dallo stesso network. Questo fa in maniera che non ci siano malintesi sulla divisione professionale e sulle modalità di condivisione. Inoltre il sistema Casa in 24 ore mi permette di profilare dei clienti e di iscriverli al sito e il sito da solo, senza che io mi devo occupare della faccenda, gli manda le mail piuttosto che messaggi sms e sono i clienti stessi che poi mi ricercano e mi chiedono informazioni. Il punto di forza di Casa in 24 ore è che da quando ne faccio parte il mio fatturato è aumentato sensibilmente.